Io vi sto per presentare il gran finale della boutique meravigliosamente donna. Facciamo un grandissimo applauso e accogliamo le straordinarie indossatrici che sfileranno per voi con degli abiti straordinari da sogno. Meravigliosamente donna! Grazie a tutti! 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 Guardiamo un grande lavoro! Grazie a tutti! Però voglio sentire un applauso molto più consistente. Eccole qua. Sono loro che ci hanno reso più belle, che ci hanno truccate, che ci hanno trasformate. Siete bravissime, grazie. Facciamo un grande applauso. E poi vogliamo ricordarvi che Manola Abati, con la Giafra Cosmetics, è presente con vari eventi all'interno della boutique meravigliosamente d'ora per dei trattamenti e dei massaggi, delle cose felici. Quindi andremo tutti a coccolarci da lei. E poi le accoggiature, l'universo di Nicoletta. Un grande applauso. Eccola qua, Nicoletta. Senza di loro non si sarebbe potuta fare la sfilata, perché sono quelle che lavorano fuori dalle luci del palcoscenico, ma tanto sono importanti, dietro le quinte. E sono le collaboratrici Antonella, Marica, Stefania e tutte le collaboratrici che erano dietro le quinte. Che prego di raggiungermi qua. Venite qua. Non vi nascondete. Venite a prendere il giusto applauso. Sono timide. Fate sentire il vostro calore. Eccole qua. Un ringraziamento per le fotografie, la DNA Photograph di Alberto Scaglietta e Daniele Veglianti. Per l'audio e la musica ringraziamo Riccardo, chiamato da DJ, per la colonna sonora di tutta la sfilata. Grazie! E ringraziamo anche Albrecy per la collaborazione, l'Audiotime per le luci e per il supporto tecnico, Vittorio e tutto il suo staff. Ringraziamo Valle Fiorita di Vignanello per questa straordinaria sceltafia. Eccolo qua. Volevi dire qualcosa? Certo. Beh, però, io credo che a questo punto ci apriamo e facciamo passare il cuore pulsante di questa boutique. Anzi, sono due cuori. Due cuori enormi, immensi, due persone meravigliose, di grande professionalità, raffinatezza, gusto. Due donne meravigliosamente donne. Anna e Angela! Vi ringrazio per avermi venuta qui con voi. Grazie. Eccolo qua. Facciamo un altro applauso. La boutique è meravigliosamente donna di Bagnaia. Io ringrazio anche il suo dalizio dei facchini nella persona di Massimo Vettarini e ringrazio anche Sandro Rossi per avermi voluta qui questa sera per presentare questa meravigliosa serata in questa meravigliosa cornice. Grazie. Grazie a tutti. Allora, la boutique meravigliosamente donna vi dà appuntamento più o meno alla stessa ora, 21.30, sempre qua, domani sera. Grazie. Un grandissimo applauso. Grazie. 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 Grazie.